Domenica dedicata interamente agli inserimenti di preorder sul nostro sito www.venistrike.com e stampe originali, più tardi gireremo il video conclusivo. Nel frattempo vi avvertiamo che abbiamo messo in preorder l'edizione rara viola del nuovo album The Rolly Stone. Oltre a quella chiara ci sarà questa edizione colorata purple, soltanto per i negozi musiche indipendenti, quindi sarà più rara di quella chiara. Prenotatela subito, prenotatela subito, Vive Rolly Stones con il loro grandissimo ritorno, lo avremo fra il 20 ottobre ragazzi. Prenotatelo di corsa Acne Damons color purple, andiamo!